Sono entusiasta perché questa è la nostra cultura, questa è la nostra cultura, c'è anche BAC, ma non c'è solo BAC, c'è tutto questo che abbiamo sentito questa sera. Stasera sono stato fortunato di aver scoperto questo gruppo, grazie per aver creato il gruppo e auguri per il gruppo che hanno bisogno di lavorare, devono divulgare questa musica, ha capito?